È uno sfogo un po' peggio di quello che ho fatto con la Carrarese, però ogni tanto, come dissi dopo la Carrarese, lo faccio perché so che me lo posso permettere con i giocatori per il tipo di rapporto che abbiamo. Ieri è già finito tutto, abbiamo fatto una chiacchierata molto serena su quello che può essere, su quello che vogliamo fare, su quello che secondo me un giocatore deve avere l'ambizione di voler fare, indipendentemente dalla posizione di classifica che abbiamo in questo momento qua o quella che vorremmo avere o quella che potremo avere alla fine della stagione, quindi noi dobbiamo pensare di andare in campo, di tentare di vincere le partite. Quando le partite sono nella condizione di poter essere vinte, che giochiamo contro la Juve, con il Real o con l'Albisola, dobbiamo tentare di portarla a casa. Contro la Juventus vedremo qualche cambiamento a livello offensivo, Belloni non sarà nell'11 titolare, Rolando potrebbe esserci invece? Sì, potrebbe essere una soluzione che abbiamo, la squadra alla fine rimane sufficientemente equilibrata, nel senso che in tante gare quando Bello è stato a disposizione, siamo partiti con lui, ma alla fine è importante che chi occupa quella posizione là, che è una posizione delicata per questo sistema di gioco qua, debba far fatica, perché se non fa fatica quando non gioca. Brunoli non segna dal 26 dicembre, mister, è preoccupato per questa fase di magra dal punto di vista realizzativo, per un attaccante ha sempre un periodo particolare? No, non sono preoccupato perché alla fine è un giocatore che ha sempre fatto la prestazione, poi con la Lucchese ha preso il palo, domenica c'è avuto un'occasione abbastanza grossa, ora può essere anche in un momento fisico non perfetto. resta un giocatore dal mio punto di vista importante per l'economia della squadra, quindi tutte le volte che lo devo togliere, ci penso. Arriva la Juve che lei ben conosce, è un avversario cambiato rispetto alla partita di andata e le chiedo anche, un giocatore come Mokulu può spingerla a cambiare anche qualcosa in difesa oppure no? No, perché alla fine ha fatto il gol con la Propatria, credo, e il gol con l'Arzachena con due difese a tre, quindi io non sono mai stato dell'idea che sia il modulo che determina le cose, ci sono state delle partite, una partita in particolare col Pisa perché secondo me c'era una necessità abbastanza pesante su una squadra che mette 500 cross per partita e ha grande fisicità, ha grande fisicità, c'era pure la Juve ma un'altra tipologia di sviluppo di gioco, poi magari ce li fa uguale, però non vedo similitudine tra le due necessità che ho avuto con loro e quella che posso avere con la Juventus questa gara qua. Non ci saranno i tifosi che rimarranno fuori, i tifosi della Curva Sud, sarà una difficoltà in più questa per la squadra oppure no? Assolutamente sì, perché sta di fatto che noi in casa abbiamo fatto la maggior parte dei risultati perché comunque percepiamo come è normale che sia grande entusiasmo da parte della gente, soprattutto da parte della Curva che alla fine è quella che incita sempre. Non averla non è uguale, però non credo che io possa farci qualcosa, allora tento ad adattarmi.